Tutti sanno che esistono i classici Disney. Scommetto che non li avete visti tutti. Ditemi quali non li avete visti, perché qua vi sto per fare un elenco di tutti quelli che esistono, spiegandovi la loro trama senza fare spoiler. Walt Disney morì durante la produzione di Il Libro della Giungla. Quindi da questo momento in poi si passa all'epoca di bronzo, l'epoca in cui si avevano ancora le vecchie idee di Walt Disney, i vecchi animatori di Walt Disney, ma non più Walt Disney. Gli Aristogatti. 1910, Parigi. George, una ricca nobile, si rende conto del fatto che sta per lasciare questo mondo. Presto dovrà morire, dopo tutta anziana. Così chiama l'avvocato George e decide di decidere la sua eredità, che andrà tutta quanta ai suoi gatti. E in piccola parte è il suo maggiordomo. Essendo Edgar stato accanto alla nobile donna per così tanto tempo, non può accettare che tutta l'eredità vada dei gatti. Così decide di liberarsi dei gatti. Ma una volta liberatosi dei gatti, sarà compito dei gatti quello di ritrovare la strada di casa e vedere di ritornare dalla duchessa. Rabinud. 1200, Inghilterra. Il principe Giovanni senza terra ha sostituito Riccardo Cuor di Leone al governo del paese, mentre Riccardo Cuor di Leone è partito per le crociate. Ma il principe Giovanni è estremamente crudele e non riuscendo a gestire per bene il paese, continua ad alzare le tasse. E alzarle. E alzarle. E alzarle. E alzarle. Così Rabinud, la volpe, ha deciso di iniziare a rubare ai ricchi per dare ai poveri. Le avventure di Winnie the Pooh. Christopher Robin è un bambino dalla fervida immaginazione e lui immagina che i suoi piccoli orsacchiotti siano in grado di prendere vita. E così si inventa il Bosco dei Cento Acre e un'incredibile serie di avventure dei suoi piccoli abitanti. E mentre seguiamo le piccole avventure di questi pelusci nel cercare di risolvere piccoli problemi, ci rendiamo conto del fatto che Christopher Robin sta crescendo e purtroppo ne è consapevole e sa che presto dovrà dire addio a Winnie the Pooh. Bianca e Bernie. Una bambina viene adottata da Medusa, una dolce e simpatica signora che ama molto i bambini e che ha sempre desiderato averne uno tutto suo. Ma quando la bambina arriva a casa della nuova mamma scopre che in realtà questa vuole semplicemente prendere un bambino e averne i pieni diritti per riuscire a infilarsi in una caverna e recuperare un preziosissimo diamante. E mentre la piccola viene lasciata ai lavori forzati decide di chiedere aiuto all'ONU. L'ONU ovviamente non può certo dar retta a un messaggio in una bottiglia. Ma l'ONU dei topi sì. Ed è così che l'ONU dei topi deciderà di organizzare una spedizione per salvare la piccola in pericolo. L'epoca di bronzo è stato un periodo di degrado per la Disney dove si è andati verso un gusto che non piaceva assolutamente al pubblico. Così a questo punto inizia il Medioevo Disney, cioè l'epoca più oscura. In questo periodo la Disney non ha più idee e inizia a licenziare gli animatori. Così la qualità dell'animazione inizia a cambiare e coloro che prima avevano lavorato con Walt Disney ora non ci sono più. Red e Toby, nemici e amici. Ci troviamo nel Novecento in America e quando questa dolcessima signora trova un cucciolo di volpe decide di crescerlo come se fosse una sorta di suo piccolo animale domestico. Il problema è che il vicino di casa, unico abitante nel raggio di chilometri, è un cacciatore. Immaginate che cosa può succedere se un cane da caccia diventa amico di una volpe che fra qualche anno dovrà cacciare. Tutti, tutti hanno pianto con Red e Toby. Taron è la pentola magica e il titolo originale era un po' pezzercato, il calderone nero. Questo è il primo Disney ad essere estremamente fantasy. Lo stile è simile a quello del Signore degli Anelli, un'atmosfera estremamente oscura. E il perfido Cornelius, un demone, è deciso sempre di più a trovare il calderone nero. Un calderone con dei poteri incredibili, fra cui quello di creare un esercito di morti viventi. Il calderone però è ben nascosto e il giovane Taron dovrà cercare di recuperarlo per tenerlo ben lontano dal perfido Cornelius. Basil l'investiga topo, o Basil di Baker Street. In questo mondo Sherlock Holmes è un topo. Cioè c'è anche quello umano, ma nella casa di quello umano vive anche un topo Sherlock Holmes. E questa è la storia di come Watson incontrerà finalmente per la primissima volta Sherlock Holmes, cercando di risolvere un caso grazie al quale Rattigan cercherà di imporre il suo potere sulla regina d'Inquilterra. Ed ecco l'ultimo film di cui parlo in questo video, Oliver and Company. Tutti conoscono le famose storie di Dickens, in particolare Oliver Twist. Sì, anche il canto di Natale, ma Oliver Twist. Qui seguiamo la storia di Oliver Twist, ma ripensata e ambientata nella New York degli anni Ottanta. Qui Oliver Twist è un gattino, Fagin è un barbone, ma la storia resta la stessa. È così che il piccolo orfanello dovrà imparare a rubare, ma verrà poi adottato in una casa estremamente ricca e si ritroverà a dover vivere a metà fra questo mondo di furti e di malavita e la vita che è sempre sognato. Fra questi classici Disney non si nasconde nessuna grandissima opera d'arte, ma sono più che gradevoli e ve li potete godere. Saranno comunque interessanti da vedere se non li avete ancora visti.